Il settore del freddo a Casale Monferrato è vitale e occupa migliaia di addetti. È necessaria una formazione specifica per far sì che le maestranze siano al passo con i tempi e con le normative previste. Un master per tecnici del freddo si svolgerà a partire dal 28 novembre per una durata di 100 ore presso la sede dell'Università del Piemonte Orientale. È stato illustrato a Palazzo Lascaris il corso per la prestigiosa qualifica promossa dal Centro Studi Galileo con la partnership del Comune di Casale Monferrato e del Politecnico di Torino.